bentornati a panorami questa settimana è ripresa la scuola con le limitazioni previste e solamente parzialmente naturalmente ma si tratta di un momento importante di una ennesima ripartenza sono ritornati a scuola nelle regioni rosse tutti i ragazzi i bambini più giovani soprattutto dalla scuola delle scuole primarie alla prima media nelle regioni arancioni anche fino al 50 per cento della copertura dei posti anche i ragazzi delle scuole superiori quindi di fatto circa i due terzi delle scuole obbligatorie e delle scuole paritarie vedono i loro ragazzi e loro ragazzi i loro bambini e le loro bambine rientrati appunto all'interno delle classi si tratta di una prova di grande responsabilità come l'ha definita il ministro della pubblica istruzione patrizio bianchi professore universitario e già lettore con una esperienza significativa di governance della scuola insomma con coerentemente in maniera congrua rispetto agli annunci il nuovo governo ha rispettato gli impegni e ha riaperto la scuola ma i problemi rimangono i problemi rimangono a livello locale per esempio nel senso che in questo caso contrariamente alla possibilità per lo stato di avvocare a sé le decisioni ovvero per il ministero e il governo attraverso la possibilità per i comuni di derogare alla riapertura della scuola ha rinunciato per esempio la puglia che continua a resistere fortemente in una maniera potremmo dire davvero curiosa per non dire altro non riuscendo nella contrariamente a quello che dice a organizzare contemporaneamente le due modalità di didattica a distanza e in presenza per ragioni organizzative ovvero appunto per carenze organizzative serie oltre che per la personalità diciamo così molto forte ed esondante del presidente di regione rimangono soprattutto i problemi dal punto di vista dei trasporti quelli che costituiscono i mezzi pubblici uno dei focolai come abbiamo visto più pesanti dal punto di vista della diffusione dei contagi gli insegnanti sono stati vaccinati ma questo naturalmente non è capitato ancora ai ragazzi alle ragazze ai bambini e alle bambine che saranno gli ultimi secondo il criterio di età e anagrafico dunque occorrono ancora molte avvertenze occorre cautela ma si tratta per l'appunto di un segnale importante possiamo dire di un segnale indispensabile nel senso che la situazione di abbandono di dispersione scolastica la disattenzione colpevole che troppo spesso ha preso questo paese nei confronti delle generazioni più giovani rispetto a quel momento fondamentale di socializzazione di istruzione di formazione di crescita insieme agli altri che la scuola è stato nell'anno terribile del covid particolarmente evidente ci sono state delle buone pratiche buone pratiche riunite dall'indire l'istituto nazionale che si occupa della didattica e dell'innovazione nella didattica buone pratiche relative alla dad alla didattica a distanza che dovrebbero essere attentamente studiate analizzate e magari riproposte nel proseguo o quantomeno valorizzate appunto in una logica di scuola che riesca anche a mettere a profitto le strumentazioni digitali così importanti come la pandemia e il covid ci hanno costretto a evidenziare e di cui ci hanno costretto a prendere atto perché senza di esse sarebbe stato veramente difficile lavorare e poter mantenere i contatti ma va ripetuto e ribadito ancora una volta per i ragazzi più giovani per i bambini e le bambine la dimensione della scuola con gli insegnanti la possibilità di vedere gli altri seppure appunto all'insegna delle restrizioni sanitarie è indispensabile si tratta davvero di una trincea in un paese che sta vivendo purtroppo in maniera sempre più veloce la disgregazione e delle modalità di lacerazione sociale anche tra le generazioni sempre più evidenti è proprio per questo che la scuola è una trincea non è un lusso non è la fissazione non è l'ossessione di qualcuno ma un compito fondamentale indispensabile delle autorità pubbliche a ogni livello da chi organizza i trasporti e ancora non ha fatto quello che avrebbe dovuto fino per l'appunto ai ministri e al consiglio dei ministri l'esigenza di far sì che ci sia una scuola in presenza per il più giovane è assolutamente fondamentale è una linea magino ci sono già troppe brecce nelle nostre linee magino a causa della pandemia questa va assolutamente riconfermata difesa e rilanciata